Musica Amici di Antenna Sud, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione in generale prevista per mercoledì 4 luglio. L'alta pressione è sempre disturbata da spifferi occidentali e sud-occidentali che determinano la formazione di annuvolamenti diurni sulla dorsale associati a locali scrosci di pioggia o brevi temporali. Sole prevalente lungo i litorali di Molise, Puglia e Basilicata. Ed ora vediamo più da vicino quali sono le previsioni per la Puglia. Sulla nostra regione al mattino bel tempo con cieli sereni, situazione meteorologica che si invertirà nella seconda parte della giornata. Spazio adesso alla situazione di Basilicata e Molise. In Basilicata al mattino bel tempo con cieli sereni, al pomeriggio soleggiato con poche nubi sulle coste, nubi sparsa in montagna. In Molise al mattino sulle coste soleggiato con poche nubi, in montagna bel tempo con cieli sereni, situazione meteorologica che si invertirà al pomeriggio. Infine vediamo come cambia la situazione per temperature, venti e mari. Temperature stabili o in lieve calo, venti deboli o moderati meridionali con mari poco mossi o localmente mossi a largo. Per ora è tutto con le nostre previsioni, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio in compagnia dei programmi di Antenna Sud. Buon proseguimento.